Sì, abbiamo oggi letto l'articolo riguardo la notizia rilasciata dall'opposizione, la quale praticamente lasciava intendere che grazie ad una mozione fatta in Consiglio Comunale, oggi la Sogget, con il manifesto che tutta la cittadinanza ha potuto vedere, sarebbe stata poi la causa che avrebbe indotto la Sogget a ritirare il ruolo dell'Imu riguardante il 2012. Ancora una volta devo purtroppo mio malgrado rilevare un'inesattezza e una scorrettezza politica da parte dell'opposizione, la quale ancora una volta ha dimostrato di non avere un progetto politico e di non andare nella direzione della verità. Questo lo potrà fare Cilento TV e lo stesso giornale di proprietà della stessa emittente che avrà la possibilità, riprendendo semplicemente un post datato 27 settembre, quindi 20 giorni fa dove l'amministrazione comunale annunciava quello che poi è successo ieri mattina, ossia che quel tributo del 2012 pagato dai cittadini di Camerota non era dovuto. È stato un impegno preso dal sottoscritto appunto 20 giorni fa su Facebook, abbiamo aspettato l'atto ufficiale da parte della Sogget senza fare stupidi proclami e oggi chi invece ha pubblicato un articolo accampandosi così delle proprie, vantandosi di quanto è successo, ha fatto sì che ancora una volta i cittadini capissero tantissime cose che poi stanno venendo fuori, appunto quella che l'amministrazione aveva già detto ai cittadini di Camerota di quel provvedimento. Quindi andiamo nella direzione della chiarezza e della trasparenza. Abbiamo ritenuto che i cittadini non dovessero essere penalizzati da scelte scellerate che venivano da altre amministrazioni, in questo caso da una scelta dell'amministrazione Troccoli e Romano, Romano e Troccoli, e quindi non abbiamo nessuno da difendere, lo faremo pubblicamente ogni qual volta ci saranno date le opportunità di smentire chi dice delle bugie e di chi non ha progetti politici per Camerota.